Allora, il mio ragazzo siamo partiti più o meno due anni fa, ci abbiamo provato, non sapevamo neanche noi come funzionasse il mondo e-commerce perché noi vendiamo solo online e ci abbiamo provato, abbiamo trovato questa nicchia che era l'arredamento della casa, la piccola oggettistica e abbiamo deciso di partire con quello, quindi più o meno due anni fa, poi un anno fa siamo venuti nel capannone perché ormai avevamo tante spedizioni da gestire e dove eravamo non riuscivamo. Voi vi trovate praticamente al confine tra Vallefoglia ed Urbino, la sede diciamo logistica, come hai detto tu, è soltanto e-commerce. Come sta approcciando anche la gente in un periodo soprattutto questo? Siamo vicinissimi a Natale. Allora, adesso siamo super incasinati anche perché tra un po' la chiusura dei negozi e il Natale abbiamo sentito diciamo tutto questo perché logicamente la gente sta più a casa, acquista di più online e già il Natale è un periodo molto carico per noi e quindi possiamo immaginare in questo periodo. Fortunatamente nel nostro settore c'è stata una gran crescita, noi vendiamo solo online e quindi ci siamo potuti proprio concentrare su questo, anche se in alcuni momenti abbiamo fatto fatica perché ci mancava il personale e non sapevamo come fare, però fortunatamente è andata bene. Adesso ormai siamo alla fine per noi perché più o meno dal 15 dicembre le vendite calano del Natale perché poi non si sa se la merce arriva o no, se i corrieri consegnano o no. In base anche al periodo che facciamo riferimento mancano pochissimi giorni a Natale, cosa trova qua la gente in riferimento a questo e che cosa preferisce anche acquistare chi ha già fatto degli ordini? Allora in generale proprio in questo periodo acquistano tanto o le decorazioni natalizie o le idee regalo perché abbiamo plaid, sugamani, qualsiasi cosa e quindi in questo periodo addirittura spediscono direttamente a casa della ragazza o del ragazzo a cui vogliono regalare l'articolo. In generale più o meno le olimpiette perché si chiamano così le ragazze che acquistano da noi comprare qualsiasi cosa però va molto forte appunto l'arredo quindi non so i vasi, portati light, piccolo oggettistica. Per quanto riguarda anche chi compra, dicevamo anche prima a Forionda l'idea è nata principalmente da gente che non era proprio del territorio ad acquistare. Sì esatto, noi siamo partiti principalmente con uno stile shabby chic diciamo e quindi un po' più romantico che dove quindi le spedizioni avvenivano principalmente nel sud Italia e poi abbiamo iniziato ad allargare diciamo ad altri stili quindi abbiamo aggiunto magari uno stile un po' più nordico oppure anche boh chic e quindi ci siamo riusciti a spostare diciamo anche nel nord Italia e di conseguenza anche nel centro. Anche prodotti fatti in casa? Sì abbiamo una linea di profumatori che abbiamo lanciato da circa un mese e profumatori per ambiente che sta andando abbastanza bene, sta iniziando a essere conosciuta diciamo e poi il prossimo anno quindi adesso breve dal 2021 pensiamo, cioè siamo già nell'intento di allargare la gamma quindi stiamo preparando dei profumatori per bucato e dei mattarelli incisi, decorati, altri vari progetti diciamo abbiamo in corso che produciamo noi e che tratteremo con il nostro e-commerce. Ultimissima cosa invece quella che riguarda l'organizzazione del lavoro in cosa consiste? Allora noi sì generalmente facciamo diciamo le spedizioni, prepariamo le spedizioni durante l'arco della giornata e poi nel tardo pomeriggio solitamente i nostri corrieri GLS o DHL vengono a effettuare il ritiro della merce che abbiamo preparato e quando ci sono diciamo dei tempi morti invece ci spostiamo diciamo sul controllo della merce quando ci arriva quindi controlliamo tutto quello che ci portano i fernitori per far sì che i prodotti che andiamo a vendere online e che andremo a spedire alle nostre clienti non abbiano difetti, che non abbiano graffi per evitare diciamo qualsiasi contestazione da questo punto di vista.